Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Perdonatemi per il tono della voce, io ieri ho cantato le canzone Moldave con un mio amico e ho beccato un affreddore, insomma. Per questo parlerò un po' così. Prima di cominciare a dialogare con Stefano, che ho conosciuto con piacere, penso che si tratta uno dei pochi giovani scrittori, viaggiatori, persone dei quali il nostro paese, Italia, io intendo, può veramente vantarsi, perché questo spirito di Marco Polo, che ha questo ragazzo, le sue avventure piene di curiosità che ci portano a viaggiare nel mondo insieme a lui. Io ad esempio ho guardato un po' di suoi video e è come se avesse viaggiato, poi io sono una persona sedentaria, non esco dal mio appartamento di Milano, faccio raramente, per cui l'esistenza di persone come Stefano per me sono anche particolarmente importanti. E arriva questo libro. Quando io ho letto questo libro sono rimasto molto felice innanzitutto, molto felice perché questo libro è un grande ponte culturale, ponte culturale del quale noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno oggi, particolarmente in questo momento, dei ponti che legano le culture, legano i paesi, che ci avvicinano agli altri mondi. Il libro di Stefano lo fa in maniera veramente egregia. La prima domanda, quindi Stefano... Se so rispondere. Sì, sicuramente. E perché questo libro? Cioè cosa ti ha spinto alla scrittura? Con quale spirito tu hai deciso di comporre questo testo? E poi ci sono anche belle immagini all'interno. Intanto prima di rispondere alla domanda, un grazie grosso come tutta Torino a tutti voi per essere venuti così tanti. Tante persone non sono riuscite a venire questa sera, un po' ci aspettavamo un certo successo di pubblico, ma così tanto, wow. Quindi grazie di cuore, grazie Nicolai per essere al mio fianco. Cosa mi ha spinto a scrivere questo libro? Ora, purtroppo viviamo un momento in cui uno dice ok, questo ho scritto un libro sulla Russia perché va tristemente di moda, perché la Russia è sulle prime pagine dei giornali tutti i giorni e quindi uno cavalca l'onda. La realtà è che non è così. Io pensavo di scrivere questo libro almeno tre anni fa, la prima volta, perché da quando io vivo in Russia da cinque anni, per chi non lo sapesse, vivo di qua e di là, insomma da una parte all'altra e con lo spirito di viaggiatore con cui ho fatto tutti i miei viaggi, allo stesso modo ho cercato di conoscere quel paese. Quando mi sono accorto che iniziavo a conoscere un tesoro veramente inestimabile, un qualcosa di troppo sconosciuto e troppo prezioso allo stesso tempo, mi sono detto io di questa cosa ne devo parlare. Iniziai a farlo con i miei video, con la rubrica Moscow Diaries che probabilmente porta qui la maggior parte di voi. Però un video è una cosa. Nel video uno può raccontare certe cose, ci sono certi modi e anche un certo pubblico a cui arrivi. Il pubblico del video è un pubblico bello, ma un pubblico, come ho già detto in altre presentazioni dei miei altri libri, incolpevolmente un po' superficiale, perché oggi come oggi un video tu lo guardi col telefonino, lo guardi mentre stai facendo altro, lo metti lì mentre... Insomma, non ci dai tutta questa attenzione. Mentre un libro uno deve prendersi del tempo, mettersi lì a ascoltarla per davvero una storia. E questa era una storia che io volevo raccontare, perché non solo una, tante storie. Perché la Russia mi ha dato moltissimo, non solo famiglia, ma mi ha dato una comprensione diversa anche del mondo in cui viviamo, visto da un'altra lente di ingrandimento, da un altro punto di vista che è completamente diverso dal nostro. E già prima che quest'anno, come dire, le cose volgessero in un'attualità molto drammatica, io mi ero accorto che della Russia non sapevamo assolutamente niente. Per cui l'idea di questo libro nasce innanzitutto in quel momento lì. La voglia di fare la mia parte per, appunto come hai detto benissimo tu, creare un ponte tra due mondi diversi, che per quanto molto diversi hanno sempre comunicato in un certo qual modo tra di loro, ma specialmente negli ultimi 15 anni forse, ma più passavano negli ultimi 10 anni, si parlavano sempre di meno e si parlano sempre di meno. E quindi l'idea nasce da questo. Quando poi l'attualità ha portato la Russia, con la guerra in Ucraina, diciamo di prepotenza nelle nostre vite, nelle nostre menti, nei nostri pensieri, allora qualcuno mi ha suggerito, Stefano forse non è proprio il caso in questo momento, cioè fare un libro, un atto di amore, se vogliamo, verso una cultura, un popolo, come vuole essere questo libro, non è forse il momento più giusto, la gente non è tanto pronta. E in realtà mi sono detto, no, se c'è un momento buono è proprio questo, perché questo è il momento in cui ce n'è più bisogno e non c'è altro da dire se non che sono contento di averlo scritto. Ecco, questa è la cosa più bella che può dire uno scrittore, secondo me. Infatti l'hai fatto in maniera veramente eccellente, questo libro, questo ponte. Una cosa che mi ha colpito dalle prime pagine è che tu riesci a raccontare la tua Russia, perché comunque stai raccontando la tua Russia, e questo è bello, non è come leggere un almanaco. Il libro è bellissimo perché si scopre Stefano Tiozzo, si scopre tutto il suo viaggio introspettivo, che è molto bello, molto potente. A me è rimasta molto impressa quella parte dove tu racconti di quella specie di illuminazione che hai avuto nel momento in cui suonavi Rachmaninoff. Io sono grande appassionato di Rachmaninoff, e quindi ti capisco, non so suonare purtroppo, malgrado. Ho studiato a una scuola musicale, ma ho studiato alla Fisarmonica, che è uno strumento sul quale è meglio Rachmaninoff non suonare. Decisamente no. Raccontaci un po' per favore di questa tua capacità, di questo tuo lato personale, di questi viaggi introspettivi che ci sono ovunque. Questo libro è costruito proprio su Stefano Tiozzo, che attraverso viaggi in Russia sempre scopre qualcosa anche dentro di sé. Quindi è anche un viaggio molto filosofico in certi punti. Ma allora, chi mi conosce da tanto tempo, a partire dai miei più cari amici che sono qua in prima fila, uno su tutti, il mitico John, con cui feci il mio primo viaggio in Russia, che a questo punto lui può vantare. La prima volta che ci è entrato io ero al suo fianco, alla stazione beloruschia di Mosca, dopo un treno notturno da Varsavia. Chi mi conosce da tempo sa che questo è il mio approccio a qualunque cosa, sostanzialmente. Se c'è una cosa che io penso di saper fare, perlomeno di aver imparato a fare nel corso della mia vita, è raccontare le mie emozioni, raccontare cosa mi sento dentro e raccontare cosa vedo con i miei occhi. Non ho la pretesa di raccontare, come dire, verità assolute o chissà quale paradigma o gigantesca verità totalitaria su qualunque cosa io racconti. Non ho mai avuto questa pretesa, neanche quando sul mio canale YouTube mi sono messo a raccontare di questioni storiche, di questioni più tecniche che teoricamente sono stabilite nei libri di storia, diciamo. Io racconto il mio modo di essere all'interno di ciò che faccio e nel momento in cui dovevo raccontare la Russia, come ho scritto nel primissimo capitolo, c'è una poesia famosa di un poeta russo dell'inizio dell'Ottocento, del 1835, che peraltro è stato anche un diplomatico dello zarra ai tempi all'ambasciata russa di Torino, viveva qua, si chiama Fyodor Ivanovich Tyuchev, lui scrisse una poesia bellissima, scrisse «umom rassi unipagnat», che significa «la Russia con la mente non si può capire». Poi continuo dicendo «non si può…» «arshina nobshim nismirit» «non si può misurare con un…» la conosce a memoria giustamente perché questa è una poesia fondamentale per la cultura russa. Appunto, non la misuri con un normale sistema di misura. La Russia è fatta tutta a modo suo «vrassia tolka moshnavierit» «mojna tolka moshnavierit». Nella Russia si può solamente credere, come se fosse un'entità astratta, come se fosse una specie di dogma religioso. E questo è realmente così. La Russia è tutto e niente allo stesso tempo, la Russia è qualunque cosa allo stesso tempo. Noi tendiamo a visualizzarla con una definizione monolitica, spesso incentrata su pregiudizi politici, di stampo sovietico prima, adesso putiniano, per quel che riguarda l'attualità degli ultimi vent'anni. ma tendiamo sempre a semplificare la Russia come «è quella cosa lì». La realtà è che sì, la Russia è quella cosa lì, ma è anche il suo opposto ed è anche altri cinque diversi opposti al suo interno, su qualunque argomento noi vogliamo mettere sul tavolo della discussione. Di conseguenza, io con quale pretesa posso pretendere di raccontarvi la Russia? Con quale coraggio io posso avere l'arroganza di raccontare un paese che appunto, come dice questa poesia, con la mente non può essere capito? E chi ha vissuto in Russia lo sa questa cosa, lo sa che con la testa non ci arrivi, impazzisci. È un rebus, è un enigma. Ma del resto, se noi ci immaginassimo così, per pura fantascienza, di avere uno Stato unico in Europa, che unisse sotto la stessa bandiera un norvegese, un kossovaro, un catalano, un greco, un francese, che cosa ne verrebbe fuori? Verrebbe una cosa comprensibile, secondo voi assolutamente no. La Russia è esattamente questa cosa qua. La Russia per via della sua storia imperiale è diventata questa cosa qui e lo è tuttora. Quindi io, per tornare alla tua domanda, io racconto quello che ho visto io. Racconto come questa grande immensità, difficilmente comprensibile, è entrata dentro di me un passo alla volta, a partire dalle esperienze più bizzarre che mi sono capitate, poiché avendo sposato una donna conosciuta, mi sono trovato a vivere esperienze non comuni nel jet set Moscovita, che sicuramente sono esperienze oggettivamente particolari, fino a poi a vivere decisamente esperienze più ruvide, molto più russe nella loro vera sostanza, come l'inverno in Siberia, come la transiberiana a suo tempo, anche se di questo libro, in questo libro non se ne parla, come una settimana con i nomadi nella tundra, oppure le vicende che ruotarono intorno al mio matrimonio in Caucaso con tutte le tradizioni di quell'universo che è veramente un cosmo a parte, eppure tutto sotto la stessa bandiera, quindi la mia Russia è essenzialmente quello che io ho visto, quello che ho conosciuto e quello che ho a mano a mano capito di questo posto, di questa cultura, di questa gente, di come vedono se stessi all'interno del mondo e di come si vedono tra di loro al loro interno, ok? Quindi c'è tanta carne al fuoco, ovviamente sarebbe impossibile parlarne in breve tempo, figuratevi che se c'è una rubrica Mosco da Aeres che conta ormai 50 e rotti video da 40 minuti l'uno e ancora ne ho per 200 video da raccontare, forse capite perché questo libro è un po' più spesso degli altri due, ecco. Bellissimo. Stefano, adesso mi qua mi diranno che sto facendo un po' una sviolenata, però raccontiamo la tua storia e il tuo Notting Hill perché è molto interessante, cioè tra l'altro questo libro insieme con me ha letto in contemporanea la mia compagna ed era tutta che è piena di romanticismo che mi diceva ma guarda, ma guarda che bella storia, ma questo ragazzo da Torino è andato là, racconta questa cosa qua, questa avventura, racconta per favore della tua moglie e di come tu da un viaggiatore sei accampato insomma nella famiglia di Cabardino Balcari, sei sposato con la Cercesca, questa è la bellezza. E' una storia ovviamente molto lunga perché innanzitutto parte da da un evento fortuito, no? Il primo capitolo di questo libro si intitola La Russia non si sceglie, la Russia ti sceglie. Il senso ultimo poi ovviamente è sviluppato nel corso del capitolo però non so se voi conoscete qualcuno che di sua iniziativa ha deciso sapete cosa? Vado a vivere in Russia. Non conoscete qualcuno? Non ho ancora conosciuto nessuno che è andato proprio da zero, dal nulla, io vado l'amico, tu, grande, sei l'unico. E non vale così, così non vale perché perché c'è stata la causale, anche io ho sposato una donna russa, sono andato a vivere in Russia e quindi il senso qual era? Che tutte le persone che ho conosciuto che dall'estero sono andate lì, perché la Russia non è che sia un posto come dire che ti seduce con una sorta di soft power tipo America, tipo Londra, per noi italiani che cresciamo qui. Non è che sogni, da piccolo io sognavo l'America, sognavo, non so, Londra, la musica inglese, quelle cose che ti impressionano da piccolo, mica mi fregava niente di Dostoevsky, Tchaikovsky, di tutte quelle cose noiose che mi sembravano essere la Russia, no? E poi finisce che niente, ti innamori di una donna che casualmente si innamora anche di te, finisce che ti sposi, pam, non te ne sei neanche accorto e vivi a Mosca. E la stessa cosa è successa a un sacco di persone che ho conosciuto, facendo, ma tu come ci sei finito? Facendo, qua per lavoro, eh, poi sono rimasto. E una volta il lavoro, e una volta l'amore, a volte l'amore, a volte il lavoro, sono sempre queste due, poi difficilmente ce n'è una terza. Però alla fine in qualche modo ci si ritrova tutti lì. E allora mi sono detto com'è che ci siamo finiti qua? Quindi questo è un po' il punto di partenza di questa storia, di questo Notting Hill. E poi il caso vuole che io ho conosciuto questa ragazza che non era ai miei occhi né più né meno che una bellissima ragazza come tante ne vedo anche sedute qua. Però casualmente era una donna molto famosa nel suo ambiente, era una cantante molto conosciuta, faceva parte di una girl band che potremmo paragonare alle Spice Girls di Russia più o meno per intenderci. E quindi da un attimo da che facevo il dentista nella provincia di Torino mi sono trovato a essere sulle copertine dei rotocalchi di People Talk, Star Hit, tutte queste cose qua con le giornaliste della MTV russa diciamo che andavano a seguire le testimonianze di quelli che ci avevano visto all'ufficio per registrare i matrimoni e cercavano di capire chi fossi, chi è questo misterioso sconosciuto. Quando ho sentito questa giornalista che diceva come diceva qualcosa non mi ricordo con la cantante è stato avvistato un brunetto, Krasavitz Brunetta, mi avevano chiamato Krasavitz Brunetta vuol dire un brunetto niente male lo diceva così adesso soddisfazione ed è iniziata questa chiaramente questa fase molto artefatta della mia esperienza in Russia perché sono stato catapultato dall'essere come dire una persona completamente estranea a quel sistema a trovarmi a essere seduto a fianco ai principali presentatori tv attori, cantanti eccetera che io non conoscevo e mi facevo delle figure incredibili cioè una volta mi sono trovato di fronte al pippo baudo russo e gli ho chiesto se mi poteva indicare il bagno perché ma sul serio sono successe diverse di queste situazioni qua e tutto questo diventa ulteriormente ancora più comico e soprattutto interessante nel momento in cui mia moglie non solo era una donna famosa ma era una donna che veniva da una cultura che con la Russia non aveva niente a che fare eppure stava in Russia nella cultura del Caucaso del nord in particolar modo della repubblica di cabardino balcaria cultura circassa sarebbe lungo spiegare per chi non ha familiarità con questi nomi ma il libro è fatto apposta per questo e quindi mi venne in mente una frase che mi disse mia moglie quando l'ho conosciuta per la prima volta le dissi ma tu sei russa quindi lei mi fa no io sono caucasica non ci provare neanche a dire che se io sono anche russa sì ma sono caucasica prima di ogni prima di ogni altra cosa e dietro quella frase c'era un cosmo c'era un cosmo perché caucasico anche lì vuol dire tutto e niente a sua volta un gigantesco universo che comprende 46 popoli diversi racchiusi in uno spazio che è inferiore a quello del nord Italia praticamente cioè qua noi quando facciamo due ore di macchina cambiamo accento e dialetto nella migliore dell'ipotesi là cambiano lingua cultura tradizioni vestiti faccia religione tutto cambia ed è quindi quando chiaramente voi mettete un viaggiatore che di per sé è curioso in un contesto del genere mi sembrava di essere entrato in una nel paese dei balocchi no e quindi mi sono detto io questa cosa la devo scoprire più a fondo possibile e quindi da che la mia vita è iniziata come una versione post sovietica di Notting Hill cioè il bibliotecario che sposa l'attrice io il dentista che sposa la cantante molto presto iniziai però ad affrancarmi da quella situazione a cercare di muovermi con le mie con le mie gambe in un universo che volevo scoprire di di mia iniziativa per cui la motivazione a imparare il russo a iniziare a essere autonomo a sapermi gestire tutte le cose della vita quotidiana si cominciava con il taxi con Yandex taxi con l'ordinazione nel ristorante e poi sono finito ad andare da solo nel villaggio più freddo del mondo ecco con un autista che mi ha portato su questa strada storica la Kalinske Trassa la la strada della Kalimah cioè Kalinske Tracht la questa strada costruita dai prigionieri del Gulag che molti di voi conoscerete tramite i racconti di Varlam Shalamov oppure anche di Soginitsin anche se Soginitsin non fu mai prigioniero in quella regione lì che era la più tremenda della Siberia meno 50 come niente fosse meno 60 nei giorni freddi meno 40 quando faceva caldo e quindi tutta quell'epopea vissuta sulla mia pelle se noi prendiamo queste due esperienze completamente diverse tra di loro uno può immaginare da dove parte questo libro quindi dalla Russia che ti sceglie spontaneamente facendoti incontrare una persona che poi ti porta a vivere lì senza che tu l'avessi mai immaginato a poi a volersela come dire a volersela scegliere da soli in qualche modo per volersela andare a cercare conoscere e divulgare in ultima analisi con questo libro leggendo il tuo libro io ho compreso che tu hai capito e hai forse conosciuto la Russia meglio di molti russi perché insomma tu hai viaggiato molto hai visto diversi paesi la cosa che mi ha colpito è sempre tuo spirito molto infantile da bambino e questa è una cosa veramente meravigliosa perché quando un uomo conserva dentro di sé la curiosità di un bimbo di una persona che guarda il mondo con gli occhi aperti gli occhi pieni di luce non rovinati da tutte quelle derivanti dell'età adulta a me mi è sembrato così e ti volevo fare i miei complimenti per questo come riesci a mantenere questa entità da infante e come ti ha aiutato nel questo incredibile viaggio perché il libro è pieno di avventure scoperte sia introspettive che geografiche insomma lui incontra i nomadi Geronzola con popolazioni locali in Siberia con i cacciatori e così via raccontaci un po' di questo aspetto per favore ma vedi un po' sono cose naturali spontanee del mio carattere e un po' sono cose che secondo me vanno anche ricercate e bisogna attivamente mantenere perché specialmente quando ti approfondisci così tanto nella conoscenza di un qualcosa che tanti non conoscono è un attimo che ti senti come dire arrivato del dire della serie lo so io questa cosa te la racconto io questa cosa qua però nel momento in cui ti prendi così tanto sul serio a questo punto perdi quella qualità che dicevamo prima allora la parte spontanea è legata al fatto che sostanzialmente io mi diverto a fare quello che faccio io non è che viaggio solamente per lavoro viaggio perché è la mia natura viaggio perché mi diverte trovarmi in situazioni dove devo imparare qualche cosa di nuovo quindi c'è la curiosità di cui parlavi prima e lo spirito infantile vanno di pari passo in realtà e poi c'è la volontà di mantenerlo anche come dire attivamente cioè mettersi sempre in discussione essere sempre disposto a svegliarsi una mattina e dire sapete cosa in realtà non ho capito proprio niente di questa cosa qua di questo argomento in particolare quando io ho finito di scrivere il libro sì ok ero contento di aver messo insieme tutto quello che avevo immaginato ma allo stesso tempo sapevo che c'era un enorme anche vuoto da riempire perché realmente non puoi chiudere la Russia in un libro per quanto di 300 è qualcosa pagina quindi ci sono queste due cose insieme da una parte è il mio carattere sono fatto così mi piace divertirmi mi piace non prendermi sul serio mi piace mettermi in gioco dall'altra faccio tutto il possibile per per mantenerle per coltivarle quelle che io ritengo personalmente essere delle delle virtù sono molto contento che tu le abbia notate pur non conoscendomi di persona vuol dire che in qualche modo sono uscite fuori specialmente io credo che la virtù principale non solo di un viaggiatore ma di una persona in qualunque contesto sia l'umiltà uno può storcere il naso se a dire questo è un personaggio pubblico una persona che tante persone che la seguono che tante persone che ascoltano quello che dice come un punto di riferimento ok la realtà è che l'approccio deve essere sempre come dire come una bottiglia d'acqua ok se noi apriamo l'acqua l'acqua dove va va dappertutto ma finisce per andare nel punto più basso che lei è possibile eppure l'acqua è la cosa più importante che abbiamo senza l'acqua non si vive no per cui io credo questa metafora che non è mia ovviamente l'ho presa da un classico dalla filosofia cinese il Tao Te Ching noi dovremmo tutti ricordarci di dover essere così come come l'acqua cioè fondamentale a tutti gli altri ma allo stesso tempo che occupa sempre il posto più basso che lei è possibile nella ricerca di viaggio nella ricerca di un racconto questa cosa io la traduco a modo mio come voi sapete dai miei video come chi ha letto i miei libri in passato già lo sa cioè semplicemente la voglia di mettere in discussione sempre qualunque cosa e parallelamente la voglia di raccontarla senza filtri con la maggiore onestà onestà inclusa anche sulle cose personali quindi condividere momenti intimi momenti anche drammatici se vogliamo della mia del mio vissuto personale momenti difficili momenti dove mi sono scoperto fragile in certe circostanze e in questo libro come anche negli altri che ho scritto questa cosa io ce l'ho voluta mettere con forte volontà ecco penso spero di esserci riuscito ecco non lo so me lo direte voi tra qualche giorno qualche settimana raccontaci per favore dei momenti appunto difficili perché la difficoltà insomma tempra non è sempre vista come una cosa negativa il tuo libro pieno di situazioni insomma complicate un po' assurde e comunque finiscono sempre bene per fortuna perché c'è qua insomma le auguriamo che andrà sempre così una la facciamo raccontare a John sul treno tra lago Baikal e Ulaanbaatar ecco quello che volevo chiederti è raccontare magari qualche episodio proprio dove tu ci sei sentito totalmente disperato quando Stefano Tiozio proprio Stefano Tiozio ho detto boh qua sono arrivato a capolinea in viaggio dici sì ma fortunatamente un momento di questo tipo non è mai successo ringraziando il cielo ma questo non tanto perché non mi sia trovato in situazioni complicate quanto perché ho sviluppato un po' per forza di abitudine un modo positivo di vedere le situazioni c'è stata una situazione in cui forse in maniera incosciente io l'ho presa a ridere in quel momento ma era realmente una situazione potenzialmente drammatica la situazione era questa breve spiegazione la Russia voi sapete è gigantesca ma ha una caratteristica cioè tutte le zone che confinano con stati vicini sono zone proibite le chiamano Pagranichnei zona cioè la zona di confine dove se tu ti trovi in quella zona o la stai occupando perché hai una chiara intenzione di andare al confine e attraversare il confine di stato oppure sei automaticamente sospetto cioè lì non ci puoi stare trafficante con trabandiere spia specialmente se il paese vicino casualmente è un paese nemico come potrebbe essere non so la Norvegia che è un paese della Nato o la Georgia con cui dal 2008 le cose non vanno benissimo figuriamoci se questo paese è poi l'Ucraina sostanzialmente tu ci puoi andare non è che è complicatissimo però devi chiedere prima un permesso ai servizi segreti mandi una mail il tuo passaporto guardate che quel giorno io sarò lì per turismo e ti danno una specie di foglio e tu lo fai vedere se ti ferma la polizia mi trovavo in Dagestan Dagestan c'era questa situazione dove Dagestan insomma nel caucas è una regione che in passato è stata soggetta al terrorismo islamico per cui ancora oggi ci sono diverse ci sono moltissimi posti di blocco che la polizia controlla le macchine che passano specialmente se la strada passa vicino delle strutture sensibili come dighe centrali elettriche eccetera specialmente se stai per entrare in una pagrenicne zona succede che ci ferma uno di questi posti di blocco io non sapevo che stavamo andando in questa pagrenicne zona c'era il mio autista che ci stava portando ed eravamo un gruppo di 7-8 persone e a parte che la conversazione che sento fare tra il mio autista e il poliziotto è stata una delle cose più belle che ho mai sentito in vita mia veramente cioè il poliziotto lo ferma gli fa mi fai vedere la patente e l'assicurazione gli fa vedere la patente e gli spiega però che l'assicurazione era scaduta qualche giorno prima che non aveva avuto tempo di rinnovarla perché doveva venire a prendere noi doveva lavorare ma che lo avrebbe rinnovata al suo rientro a Mahashqalala capitale del Dagestan tra di loro questo se lo dicevano io sentivo perché ero seduto a fianco una di quelle situazioni in cui ho benedetto di sapere il russo perché è stato fantastico perché il poliziotto gli risponde sì però devi stare attento perché se ti ferma la polizia rischi che ti ti sequestrino il veicolo no? e io dico ma non era lui la polizia e quindi e questa era tutti contenti sul ridere no? perché vabbè lì insomma il caucos è un posto speciale anche per questo motivo qua arriviamo in una piazzetta per aspettare come dire la macchina che stava dietro di noi che doveva passare lo stesso controllo io scendo dalla piazza e volevo fare una ripresa con la macchina fotografica a semplicemente ai tubi del gas che stavano all'esterno siccome nei paesi di montagna non vengono interrati ma vengono lasciati all'esterno disegnano come delle porte fatte di tubi di gas negli incroci no? e non mi ero accorto che alle mie spalle c'erano dei poliziotti poliziotti vedono che tiro fuori una macchina fotografica non capiscono più niente e vengono da me e fanno che stai facendo qua? ovviamente dalla mia risposta le prime tre parole capiscono che sono straniero era il 2020 pandemia covid bla bla e tu che cacchio ci fai qua? un italiano qui fai vedere documenti questi vedono passaporto italiano vieni con noi in centrale praticamente mi hanno arrestato sostanzialmente non è che c'è tanto da girarci attorno ma in tutto questo il mio autista che fino a poco tempo fa diceva ma sì l'assicurazione così inizia a inveire brutalmente contro questo poliziotto ma li dice di ogni colori tipo dice a me in russo con lui che sentiva a fianco fa la loro vita è una vita di merda sono degli sfigati non fanno niente tutto il giorno lo capisci devono rompere le palle agli stranieri per questo motivo ma adesso gli facciamo capire che stanno facendo una stupidaggia anche meno da dare lax cioè così ci metti un po' in una situazione difficile ed era realmente una situazione complicata però se ci penso dopo l'ho capito dopo che era una situazione difficile dove veramente mi avrebbero potuto tenere qualche giorno lì senza alcun senza alcun problema ecco se avessero voluto farlo e poi però è finita vino e tarallucci perché il mio autista che continuava a battere alla fine fatemi parlare con il responsabile io voglio parlare con il responsabile arriva il capo della polizia locale e gli spiega ma che stai facendo ma è un bravo ragazzo non lo vedi sta facendo le fotografie guarda fagli vedere che belle foto io ti faccio vedere le foto al poliziotto al capo della polizia locale però questo ah bravo però belle però mancava qualcosa non era convinto a un certo punto l'autista gli viene il guizzo di genio e dice ma lui è uno dei nostri ha sposato una della cabardino balcaria due valli più in là altra cultura come dire come se a voi dicessero ha sposato un catalano ok e questo va ah davvero ah grande ma ti sei sposato qua sì sì mi sono sposato con gli abiti tradizionali fa vedere le foto fate vedere le foto del matrimonio al capo della polizia alla fine questo quello è stato il motivo per cui mi ha rilasciato no e io ero in tutto questo io mi sono divertito un sacco esco fuori no e vedo gli altri miei compagni di viaggio che avevano una faccia di pietra stai tutto a posto sì è stato grande dadà ha fatto vedere le foto del matrimonio è stato un spettacolo ecco questa cosa magari non la raccontare nel tuo video perché andiamo avanti ok solo io capisco quando mi hanno proibito di raccontarle in video ho capito che era una situazione un po' borderline però l'ho messa nel libro questo sperando che non leggano l'italiano Stefano ogni tuo capitolo qua ci sono 15 capitoli l'ultimo un bel capitolo sul quale parleremo verso la fine però ogni tuo capitolo inizia con una poesia una citazione una frase vuoi un po' raccontare a parte sì si parte con la poesia molto bella che invito a tutti voi ad approfondire anche la storia di Tchuccev molto bella e secondo me Stefano ha trovato veramente un ottimo modo per far entrare il lettore nel succo di tutto il libro con questa poesia e racconta un po' per favore di tutti questi frasi citazioni come le hai scelti perché come mai allora abbiamo iniziato la chiacchierata dicendo che io vi racconto la mia Russia ok questa è la cosa più importante naturalmente del libro però esiste anche una grossa Russia celebre meravigliosa un concentrato di bellezza come pochi ce ne sono al mondo che è quella fatta della sua cultura della sua arte della sua musica della sua letteratura la letteratura russa ha appena due secoli di storia ed è una delle più importanti al mondo è straordinario se ci pensate prima dell'inizio del 1800 non esisteva la letteratura russa noi pensiamo a Dostoevsky Tolstoi Chekhov sono quasi tutti contemporanei in momenti quasi si conoscevano tutti perché prima di allora non esisteva noi abbiamo una letteratura che inizia da Dante abbiamo otto secoli di storia abbiamo un processo di costruzione di questa letteratura i russi hanno fatto questo processo in un tempo rapidissimo ed è straordinario se ci pensate perché vale anche per la musica vale anche per tante altre cose quindi questo enorme patrimonio che è la bellezza della Russia la bellezza culturale la bellezza non solo della letteratura classica ma anche della cultura popolare di tutta quell'enorme cultura che noi non conosciamo perché semplicemente non ci viene mai fatta conoscere non che questa sia una cosa negativa di per sé semplicemente capita che noi siamo più soggetti ad influenze di altro genere dal punto di vista letterario cinematografico culturale umoristico eccetera allora mi sono detto siccome ogni capitolo di questo libro racconta una storia diversa tutto sommato allora perché non trovare un qualche riferimento nella cultura nella cultura russa a 360 gradi quindi si parte dalle poesie di Akhmatova di Tchuchev fino alle dichiarazioni di Stalin o alle barzellette che si raccontavano nei tempi dell'unione sovietica e ciascuna di queste trovare una citazione che abbia profondamente a che fare con il capitolo che sto iniziando a scrivere e metterla come epigrafe all'inizio è una cosa che in alcuni casi risultava molto spontanea perché da lì che è venuta l'idea in particolar modo quando ho letto questa poesia di Tchuchev che vi dicevo prima la Russia con la mente non si può capire e mi sono detto questa roba deve stare all'inizio del mio libro mi sono detto ma non c'è proprio verso deve stare lì e poi mi sono detto perché non facciamo lo sforzo di trovare la stessa emozione che ho provato con quelle parole per il primo capitolo però per tutti quanti i capitoli quello che ne esce è una cosa di cui io vado particolarmente felice di cui sono particolarmente felice perché ne esce fuori un un kaleidoscopio di cultura russa che è la cosa che meglio in assoluto forse di questo libro risponde all'intenzione originaria cioè quello di voler scrivere un atto di amore verso un paese che storicamente la gente fa molta fatica ad amare ma semplicemente perché non lo conosce quello che non si conosce fa paura quando lo conosce allora hai una chance di aprire le porte del cuore per insomma scoprire qualcosa che non avresti scoperto prima e quindi ci sono poesie sono barzellette ci sono frasi ce n'è una che mi piace ricordare all'inizio del capitolo sulla Kamchatka c'è una barzelletta che ho sentito raccontare proprio in quel viaggio e che stava da dio sulle esperienze che ho vissuto in quel viaggio lì la barzelletta è la seguente un russo e un tedesco si scambiano la macchina non la conosci probabilmente si scambiano la macchina dopo una settimana il tedesco cazzato come una bestia va dal russo fa senti ridammi no scusami il russo va dal va dal tedesco e dice ridammi la mia macchina perché la tua macchina tedesca la tua Opel sulle strade russe si è rotta dopo una settimana cioè non vale niente e il tedesco cioè si facciamo così meglio così ritieniti la tua macchina dammi la mia perché sulle strade tedesche la tua macchina ha rotto le strade no? e questo se uno ha l'esperienza di stare 12 ore su un kamaz in Kamchatka che si trasforma nel cestello di una lavatrice che quando esci veramente hai i polmoni sul tacco e l'intestino dietro le orecchie capisci che non è tanto una parzelletta probabilmente Stefano io ho iniziato a leggere il tuo libro dal capitolo 14 perché mi era interessato cioè ero interessato come hai trovato la Siberia e tra l'altro lui apre il capitolo con un pezzo immortale di Shalamov che un po' riassume quello che potrebbe essere la Siberia per un occidentale tu come l'hai trovato la Siberia questa immensa terra con la quale qua i vecchi compagni insomma intimoriscono i bambini quando dicono se ti farai insomma farai breccone zio Stalin ti porterà in Siberia la Siberia è generalmente forse la la regione della Russia che più di tutte corrisponde allo stereotipo negativo che noi abbiamo della Russia no cioè se ne accombini grossa finisci in Siberia è un un automatismo che abbiamo tutti nella nostra testa ed in realtà è vero perché essenzialmente la Siberia ha questa storia qua ha una lunghissima storia di deportazioni ci passò persino Dostoievski ci passarono un sacco di personalità persino Lenin ci passò a suo tempo che si chiama Lenin Lenin prende il suo nome tra chi non lo sa dal fiume Liena che è il fiume che attraversa la repubblica di Yacuzia cioè dove sta la città di Yacuzsk la città più fredda del mondo diciamo e c'è un pregiudizio naturalmente legato al fatto che fa un freddo incredibile c'è un pregiudizio sul fatto che sia un luogo di morte un luogo di sofferenza eccetera e in realtà sono tutti pregiudizi abbastanza veri devo dire la verità perché vabbè io ho una particolare predilezione per i luoghi freddi però quel freddo è un'altra cosa ok quando se noi facciamo un'intervista tra di voi chiediamo che cos'è freddo per voi probabilmente John dice più 15 gradi è freddo no qualcun altro dirà ma 0 gradi è freddo qualcuno dice meno 10 no chi sta più sulle montagne magari meno 10 per loro è una giornata da stare in maglietta no in inverno lì si arriva a meno 65 gradi non li potete neanche immaginare se non li percepite io fino a quel momento lì nella mia vita avevo vissuto fino ai meno 35 e per me quello era il limite del freddo mi sono trovato a vivere in Siberia una settimana che ce n'erano meno 45 e c'è una differenza abissale non oso immaginare cosa siano i meno 60 perché non li ho provati mi è spiaciuto un po' perché sono arrivato lì che c'era la settimana calda no sul serio non sto scherzando io sono arrivato lì sono sceso a Yakutsk c'erano 44 gradi sotto zero vado nella piazza centrale c'erano le mamme che portavano fuori i bambini a giocare sullo scivolo chiesto un po' ma non fa freddo no oggi è caldo settimana scorsa è meno 55 quindi oggi portiamo i bambini al parco perché fa caldo ovviamente la Siberia ha come dire c'è questa sua parte storica che è tremendamente truce legata chiaramente all'esperienza del gulag l'esperienza delle deportazioni della costruzione delle infrastrutture che sostengono ancora oggi l'economia di quella parte di mondo però costruita sulla vita di deportati non so quante migliaia milioni è una cifra che non è mai stata chiarita nessuno lo sa con certezza di persone sono morte su quella strada e oggi è quella strada lì che porta il nome ancora oggi di Darugana Castià cioè la strada sulle osse ok si chiama così quella strada perché è molto facile da intuire ok ma ogni tot metri un prigioniero cadeva lo mettevano a lato della strada poi andavano avanti col passare degli anni quando hanno ampliato la strada stavolta stavolta con metodi meno coercitivi diciamo emergevano continuamente ossa ok e quindi perché erano messi stati messi a lato della costruzione di questa strada è una strada di 2000 km è come andare da qui a Reggio Calabria e tornare indietro ok 2000 km costruiti in queste condizioni dove non lavoravano solo quando la temperatura scendeva sotto i meno 50 questo vuol dire che a meno 49 lavoravano è una storia drammatica vi posso assicurare che quando la percorrete e ancora oggi si percepisce tantissimo vabbè al di là del suo trascorso storico ma si percepisce molto il fatto che ancora oggi quella strada lì con tutti gli agi della modernità è una strada potenzialmente letale voi immaginate questa distanza da Torino Reggio Calabria e Ritorno lungo la quale ci sono quattro centri abitati dei quali due sono una pompa di benzina poi c'è Usta Nera che è un po' più grossa delle altre però voi guidate per 300 400 km in mezzo alla Taiga Taiga è una parola russa peraltro è anche passata in italiano ma descrive però quell'ambiente lì foresta di conifere paralizzata dal gelo e se non hai la macchina che è gestita fatta apposta per attraversare quelle situazioni lì la macchina ti si impianta mentre vai avanti mi sono fatto spiegare tutta quanta la scienza di come preparare un veicolo o una macchina per attraversare quella strada ed entri nell'ottica di come vivono quelle persone lì per sei mesi di un anno che ogni anno che da ottobre non spengono più la macchina perché se la spengono non si riaccende più da ottobre a marzo la macchina rimane accesa la macchina il vano motore avvolto in un'enorme coperta termica cioè voi alzate il cofano vedete una coperta termica che copre anche le prese d'aria davanti perché se l'aria entra da davanti congela tutto ciò che è liquido nella macchina l'olio motore i cuscinetti la trasmissione qualunque altro e mentre io le facevo in macchina e quelle cose dei carissimi amici le facevano in bicicletta e a meno 60 la bicicletta la ruota della bicicletta non girava perché i cuscinetti si congelavano ok dopo 20 minuti che lasci una banana fuori la puoi usare come un martello per piantare un chiodo ma sul serio se tu prendi insomma tutta una serie di esperimenti simpatici prendi le bolle di sapone le soffi pararia si congelano e diventano delle sfere di ghiaccio è pazzesco però allo stesso tempo se uno si ferma a pensare no non solo il lato ludico di questa esperienza ma il lato storico il lato di tutte le persone che hanno vissuto quell'esperienza ecco che scopri un'altra faccia della Russia una delle tante quella più tragica più drammatica ma appunto non è che una delle mille facce che ha questo paese perché poi mentre in Siberia ci sono 50 gradi sotto zero in Caucaso ce ne sono 40 in estate e si boccheggia dal caldo e crescono i mandarini specialmente in Abkhazia che sono il cibo fondamentale di Capodanno in Russia non esiste Capodanno senza i mandarini dell'Aufasi Stefano siamo arrivati all'ultimo capitolo numero 15 guerra e pace che tu hai aperto per l'ennesima volta le faccio complimenti perché lui veramente è entrato dentro la cultura russa con un pezzo di Eugenio Enyegin per Russia è molto importante è un'opera importantissima in russo si dice Evgenia Enyegin si pronuncia intanto perché hai deciso mettere proprio questo pezzo e raccontaci un po' di questo capitolo dei tuoi pensieri e dei tuoi sentimenti soprattutto che ti hanno spinto a scrivere questa cosa qua che secondo me è molto molto riuscita è un po' il punto della lancia del libro allora indubbiamente sarebbe non è che si poteva evitare questo argomento no? dal 24 febbraio la nostra vita è cambiata per sempre non solo la mia che vive in Russia ma la nostra in Europa il mondo sta affrontando la crisi peggiore dal 1945 oggi su questo mi auguro che nessuno abbia più nessun dubbio la gravità di questo momento molti l'hanno iniziato a capire un pochettino più tardi col tempo qualcuno l'ha iniziato a capire adesso per quanto riguarda me che in Russia ci vivevo questa gravità io la capivo dal 2018 da quando iniziai a riprendere per mano tutti gli eventi che dal 2014 hanno creato sostanzialmente anche da prima in realtà però topicamente dal 2014 delle proteste di Evromaidan a Kiev la crisi ucraina che poi è sbocciata otto anni dopo nel disastro che stiamo vedendo oggi la mattina del 24 febbraio io mi sveglio come tutti noi con la notizia dei cari armati russi che entrano in Ucraina se questa è stata una notizia brutta per tutti noi vi lascio immaginare che notizia è stata per me per mia moglie per gli amici ucraini che erano a fianco a me quando abbiamo sentito la notizia che fino alla sera prima si diceva ma sì è tutta politica vedrai che la sistemano si mettono d'accordo adesso sì fanno gara a chi è più forte ma poi si daranno tutti una calmata e invece no questi miei amici ucraini che mi dicevano questa cosa qua il giorno dopo avevano i cari armati sotto casa dei genitori perché noi eravamo lontani in quel momento e inevitabilmente è scesa sulla mia vita personale come abbiamo detto mille volte questo è un libro molto personale racconto la mia Russia quindi quando vi racconterò della guerra sì vi racconto storicamente come si è arrivati allo scopo di questa guerra c'è un capitolo che ripercorre i passaggi storici del rapporto sempre conflittuale tra Russia e Ucraina a cui peraltro Nicolai ha dedicato il suo prossimo libro in uscita al mese prossimo ma inevitabilmente vi racconto come io ho vissuto questi ultimi sei mesi perché quando l'ho scritto ne erano passati sei ma adesso ne sono passati otto ed è un libro è una parte che ovviamente è la parte più sanguinosa per quel che mi riguarda di vissuto personale perché in mezzo ci sono stati tanti pensieri brutti tanti pensieri negativi specialmente perché la Russia nonostante sia sempre stata dipinta molto più del dovuto come una dittatura spregevole dove non c'era nessuna libertà e la realtà è che fino a un anno fa chiunque vivesse in Russia si riteneva fortunato rispetto a quello che accadeva in Europa specialmente durante la pandemia perché era un luogo dove si stava oggettivamente meglio sotto tanti punti di vista dal 24 febbraio la faccenda è cambiata di parecchio nel senso che le maglie della repressione della dittatura sono iniziate a farsi sentire molto di più per cui c'era questa situazione specialmente all'inizio quando iniziavano ad arrestare le persone che protestavano per la guerra quando iniziavano a arrestare chiunque usasse la parola guerra chiunque usasse la parola invasione ok e quindi con tutta la deriva autoritaria che è avvenuta in Russia negli ultimi sei mesi ma allo stesso modo le norme le norme ma non so neanche come definirla perché non c'è una parola elegante per definirla l'enorme tugurio di propaganda russofobica a cui siamo stati esposti l'enorme mole di offesa di insulto di di convolgimento di un'intera cultura di un'intera nazione che come appena detto non può essere ridotta a stereotipi mai come in questi ultimi otto mesi è stata ridotta a stereotipi sanzioni decisioni politiche che si formalmente prendevano di mira un paese un sistema ma la realtà è che prendevano di mira proprio le persone perché chiunque tra voi ci sono molti russi ho visto abbiamo parlato con qualcuno di voi prima o qualcuno che ha sposato una russa e queste cose le avete vissute anche voi sulla vostra pelle io ho ricevuto email di persone che mi insultavano solamente perché mia moglie era russa cioè i russi in qualche modo sono diventati per un certo periodo adesso ho un filo di meno ma comunque ancora c'è questa cosa che l'intera popolazione le intere persone che non possono niente di questa guerra al pari di quanto non ne possiamo noi ridotte a essere trattati come se fossero gli ebrei della Germania degli anni 30 segregati additati un mio amico aveva un tatuaggio della cattedrale di San Basilio sulla coscia è andato a fare il bagno al mare e non gli volevano dare non gli volevano servire un gelato al bar cosa è quella roba lì che hai sarei mica russo ma vi rendete conto di che cosa abbiamo vissuto in questi mesi cosa stiamo stiamo vivendo persino il mio telefono protesta boom quindi questo è solamente un accenno se ne sono successe di tutti i colori alcune tragi comiche con la storia dei gatti che hanno proibito i gatti russi alle competizioni per felini cioè veramente tu la leggi è una barzelletta è una barzelletta amara se però poi la metti di pari passo con tutta una serie di altre cose che sono successe anche quest'estate inevitabilmente capite bene che la componente di dolore personale per questa situazione qui che è un dolore peraltro figlio del fatto che questa guerra non la voleva nessuno da noi lassù da noi in Russia è una cosa che ha sconvolto le vite di tutti che di fronte alla quale tutti hanno cercato di continuare a fare la loro vita di sempre cercare di andare avanti nel migliore dei modi perché se andavano in piazza a protestare si facevano 15 anni di carcere tutti quanti qua sui giornali a dire se i russi sono un vero popolo devono scendere in piazza e protestare fallo tu siamo tutti roba espier con la testa degli altri poi però quando qui ci scannerizzavano per andare sul posto di lavoro no 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 giusto 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 bene la situazione è difficile eccetera dovete sapere cosa dicevano i russi di noi in quel periodo là no? in Europa siete davvero ridotti in questa maniera qua? ma poverini ma quanto mi fate pena io cercavo di spiegare no perché vedi funziona un po' diversamente eccetera e adesso le cose si sono poi capovolte in maniera completamente diversa ovviamente lungi da me mettere sullo stesso piano ciò che abbiamo vissuto con la pandemia con quello che si vive con la guerra perché sono due situazioni troppo diverse tra di loro ma il nucleo di fondo resta quello che mi aveva spinto prima di scrivere questo libro a scriverlo cioè i pregiudizi vanno sconfitti vanno presi di punta vanno smontati bisogna conoscere quello che in questo momento storico si ok la Russia è un nostro nemico perché la Russia in questo momento non è in guerra contro l'Ucraina è in guerra contro l'Europa in guerra contro l'Occidente allargato tutte le dichiarazioni vanno in quella direzione lì e anche la più banale analisi geopolitica concorderai con me Nicolai è questo ok questo è quello che stiamo vivendo uno scontro culturale uno scontro epocale che può avere dei risvolti drammatici la prima cosa da fare è conoscerla questa cultura capire esattamente che cosa loro vedono che cosa noi vediamo e cercare in che modo questa cosa può essere risolta perché i casi sono due o la si risolve oppure Dio non voglia che non dobbiamo vedere qualcosa di negativo nei prossimi mesi non lo voglio neanche immaginare per cui tornando al libro indubbiamente tutta quanta l'esposizione che ho avuto che abbiamo tutti noi avuto a questo clima di rabbia di odio di russofobia nella sua accezione più più ampia è una cosa che io ho patito personalmente molto è una cosa che a me ha fatto molto male ha fatto molto male non solo perché sono personalmente legato a quel paese ma perché mi fa male proprio da un punto di vista culturale mi sembra di rivedere i fantasmi del nostro passato di cento anni fa ritornare a marciare sulle nostre strade solo con una faccia diversa e a tal proposito mi permetto di consigliare a tutti quanti di rileggere se non l'avete già letto un breve saggio di Umberto Eco si chiama Il fascismo eterno è un libro che si legge in un'oretta no? e lui dice sarebbe troppo facile no? se ci fossero le camicie nere che marciano per strada le riconosceremo tutti la realtà che succede al fascismo è ciò che succede al concetto di gioco un gioco può essere competitivo può non esserlo può avere delle regole può avere più libertà di spazio ma resta comunque un gioco allo stesso modo lui dice si gioca al fascismo in tanti modi diversi mascherati e lui elenca tutta una serie di caratteristiche di deriva sociale profonda che stanno alla base della nascita di questi fenomeni e quindi io invito chi non ha letto quelle pagine di leggerle a cercare di interrogarsi su quello che abbiamo vissuto non solo negli ultimi due anni ma anche in questo periodo storico qui e fare farsi delle domande non darsi delle risposte chiedersi che cosa sta succedendo qua siamo al circolo dei lettori è una delle sedi più prestigiose di Torino per presentare un libro un lettore è uno che indaga un lettore è una persona che studia il mondo che non si accontenta di vedere un titolo di giornale o di vedere una così una notizia vomitata al telegiornale giusto per fare audience vuole approfondire qualcosa di più ed è quello che io vi invito a fare è quello che cerco di fare con questo libro anche su questo tema un po' spinoso raccontandolo dal mio punto di vista non è un libro che parla di guerra non prendetelo come un libro di analisi perché non c'è nulla di tutto questo sul libro anche se ne ho parlato di questi argomenti sul mio canale youtube abbastanza frequentemente e per finire chiudo con la domanda da cui sei partito cioè perché un libro che parla cioè un capitolo che parla di questa cosa così tremenda inizia con una citazione di Pushkin dell'Evgeni Aniegin che è un po' è un romanzo in versi se non lo conoscete è molto bello e in realtà è stato quando ho letto quel romanzo lì che quando ho letto questo verso mi sono detto questo sarà il verso che aprirà l'ultimo mio capitolo e non avevo ancora iniziato a scriverlo in realtà ed è questo praticamente nel romanzo un personaggio a un certo punto dopo essere stato tanto lontano da Mosca torna a Mosca e dice quante volte nell'amara separazione nel mio destino errante ho pensato a te Mosca Mosca quante cose in questo nome sono confluite per il cuore di un russo quante cose in esso risuonano una specie di ode alla città al nome a quanto quella parola lì Mosca significhi per un russo e tutti noi peraltro quando sentiamo le notizie del telegiornale sentiamo Mosca dice questo Mosca dice quello anche in Unione Sovietica era così la radio diceva attenzione parla Mosca e tutti gli altri ascoltavano ok quindi questa parola aveva questo significato ha sempre avuto questo significato profondo e io a quelle parole ho pensato quando dopo tutti questi mesi di caos odio russofobia attacchi personali eccetera sono rientrato a Mosca a inizio agosto e e mi sono commosso perché ho ritrovato la Russia che credevo di aver perso sono stati mesi terribili questi ultimi qua perché mi ricordo specialmente a marzo ero in Islanda per lavoro avevo un gruppo da portare a vedere l'aurora boreale e io non riuscivo a godermi la gioia di essere con delle persone a vedere l'aurora boreale dopo due anni di stop per la pandemia eppure ero lì avevo il cuore morto il cuore spento da questa situazione e mi ricordo che una sera mi sono detto guardo un film per ridere un film comico così non riuscivo neanche a ridere un po' come quella puntata dei Simpson dove Milaos vende l'anima al diavolo e si accorge che nulla lo fa più ridere è una situazione del genere e quindi io ero ero profondamente avevo questa grossa tristezza perché ogni volta che con i miei amici si parlava ma raccontaci di quella volta coi nomadi in Kamchatka tutte storie che ho raccontato in questo libro io dicevo questa cosa e appena iniziavo a raccontare mi veniva una fitta al cuore perché è come quando perdi un amico ma poi ne parli come se fosse ancora vivo ma mentre ne parli ti accorgi che in realtà se n'è andato che non c'è più ok e quel momento in cui ti viene porca miseria no ma aspetta ma adesso è cambiato tutto e quindi ritornare a Mosca riscoprire quella Russia autentica quella Russia eterna se vogliamo che trascende completamente tutte le idee che possiamo avere di guerra di pace di politica di persone quella Russia che esisterà per sempre anche se domani la Russia sparisse frantumata in migliaia di stati quella Russia lì continuerà a esistere perché esisterà nel cuore delle persone che ascolteranno Rachmaninov nel cuore delle persone che leggeranno Bulgakov che leggeranno Dostoevsky nel cuore delle persone che studieranno la storia dell'Unione Sovietica e scopriranno un sacco di cose interessantissime no? e c'è una frase che ho scritto nel libro che forse è il modo migliore per chiudere questa chiacchierata a meno che poi magari qualcuno vorrà fare delle domande penso è che quando l'uomo crea qualcosa di miserabile questa cosa tendenzialmente muore con lui non c'è nessuno oggi che rivive attivamente con gioia gioia cioè con le stesse emozioni del tempo gli eventi drammatici della prima guerra mondiale o gli eventi drammatici delle guerre napoleoniche della seconda guerra mondiale dell'olocausto tutto pian piano svanisce con chi le ha vissute quelle cose finché c'è qualcuno che le ha vissute le ricorda quelle cose vivono ma poi spariscono ma quando l'uomo crea qualcosa di meraviglioso qualcosa di bello qualcosa di profondamente divino nella sua natura queste cose sono eterne non se ne vanno mai la bellezza di un romanzo di Dostoevsky di due secoli fa fa piangere oggi milioni di persone la musica di Rachmaninov quando io la sento nelle cuffie mentre passeggio nel parco sotto casa mia fa piangere me oggi 150 anni non so quante sono che 100 anni passa da che Rachmaninov suonava vale per qualunque cosa per la poesia di Dante Alighieri da noi 8 secoli dopo la gente si emoziona ma la gente non si emoziona mica 8 secoli dopo per le guerre tra Siena e Firenze no? di quel tempo là quindi quella Russia lì resterà per sempre che ci piace o no e meno male ed è a quella Russia lì che ho voluto dedicare il mio libro le mie esperienze il mio amore per questo universo che così tanto mi ha dato e quindi questo verso qua di Eugenia di Pushkin di Evgenia Negin significa proprio questo cioè riscoprire quella bellezza che a tutti i costi vogliono cercare di non farci vedere e che quando tutto questo casino sarà finito perché in un modo o nell'altro presto o tardi finirà tornerà a galleggiare su tornerà a riemergere nei cuori delle persone che sapranno esplorare una cultura sapranno riconoscere nell'unicità e forse sapranno dare un contributo alla ricerca di pace alla ricerca di unità tra culture diverse nella loro diversità questo è il privilegio più grande che ha un viaggiatore un viaggiatore queste cose le vive sulla propria pelle non le leggi sui libri questo è il privilegio più grande che ho avuto io in tutte le esperienze di questo libro e questo è il privilegio che voglio regalarvi con queste pagine Dostoevsky diceva che la bellezza salverà il mondo e io credo che così sarà finché Stefano continuerà a viaggiare finché pittori continueranno a dipingere musicisti continueranno a suonare scrittori scrivere così